Buonasera a tutti e benvenuti a Motorpad TV, l'appuntamento settimanale con il mondo dei motori. Oggi parleremo di Jeep e soprattutto lo faremo seguendo una parola chiave, elettrificazione, perché questo marchio sta spingendo sempre più su questa tecnologia e soprattutto la sta diffondendo e sta allargando i modelli che hanno la possibilità di utilizzarlo. Con me in studio c'è Gabriele Conti, direttore marketing di Jeep Italia. Grazie Gabriele per essere qua con noi. Grazie Paolo per l'invito e buonasera a tutti gli aspettatori. Allora, un'elettrificazione che sta diventando sempre più spinta per Jeep, sempre più un fattore chiave per tutti i modelli e soprattutto lo fa con tante tecnologie a disposizione. Assolutamente, diciamo che il percorso verso l'elettrificazione da parte di Jeep è partito nel 2020, metà 2020, con il lancio di Renegade e Compass plug-in hybrid, quindi le nostre due icone 4x4 Jeep è diventato il plug-in. Dopo Renegade e Compass, che fin dal lancio nella versione plug-in hybrid sono state tra i leader del segmento, abbiamo anche lanciato Wrangler e Granciero, che sono le nostre due ammiraglie e anch'esse plug-in hybrid e ultimamente, se parliamo di elettrificazione, abbiamo lanciato, come ormai tutti sanno, l'Avenger 100% elettrica, la prima Jeep progettata fuori dagli Stati Uniti. Ok, Avenger che poi ha aggiunto anche una versione mild hybrid che abbiamo presentato in studio qualche... E benzina. In Italia Avenger è disponibile sia giustamente del 100% elettrico, versione 1200 cavalli benzina e 1200 cavalli mild hybrid. Bene, però in studio abbiamo la Compass, che è la vera novità insieme a Renegade di questa puntata. Però prima di andare a raccontare dove sono le novità, ricordiamo che sono due prodotti made in Italy. Assolutamente, grazie che l'hai ricordato, perché Jeep Renegade fin dal suo lancio in Europa nel 2014 e Jeep Compass dal 2020 circa sono prodotte a Melfi, quindi in Italia, e quindi questo ci rende ancora più orgogliosi. Bene, allora andiamo a vedere le novità su questo Compass e Renegade. Iniziamo dal modello che abbiamo in studio, Compass, arriva il motore mild hybrid. Esatto, motore mild hybrid, parliamo di un'ibridizzazione leggera, un ibrido leggero, quindi che non necessita di ricarica alla colonnina, perché la vettura autonomamente si ricarica in decelerazione, in frenata, dispone di una piccola batteria che viene in supporto del motore termico, quindi migliorando le performance e riducendo i consumi, le emissioni. Per la cronaca, poi questa versione è disponibile con un cambio automatico a 7 rapporti, e quindi ancora maggior ragione, diciamo, a tutto vantaggio della fluidità di guida in città, ma non solo. Fa tutto da solo, non c'è bisogno di decidere quando faccio entrare l'ibrido, quando lo faccio. Esatto, il guidatore sta guidando un'auto totalmente tradizionale in termini di fruibilità di guida, ma il cervello della vettura sceglie quando far intervenire, diciamo, la piccola batteria da 0,8 kilowatt che è equipaggiata su questa Compass, la fa intervenire quando c'è necessità. Il sistema airdo di Jeep, tra l'altro, consente anche alla vettura di muoversi per pochi metri, poche decine di metri, fino a 3 chilometri al massimo, in modalità completamente elettrica, pur disponendo di una piccola batteria che, come ricordo ancora, non ha necessità di essere ricaricata alla colonnina, quindi in parcheggio, in coda, durante il veleggio in autostrada o comunque negli spostamenti a bassissima velocità, il motore termico viene completamente staccato dalla vettura, io non devo fare nulla e quindi minore i consumi e una fruibilità e fluidità di guida ancora maggiore. Quindi, ricapitolando, abbiamo un motore che fa risparmiare un cambio automatico, una batteria che mi fa muovere quando sono in coda, quando devo fare piccole manovre e sicuramente sono già tra i bei vantaggi sulla vettura. Ma la stessa tecnologia noi la andiamo a trovare anche su Renegade, l'altra made in Italy di Jeep e anche qui quali sono i vantaggi su questo modello? Allora, Renegade dal punto di vista della motorizzazione dispone del medesimo motore che ricordo essere un 1530 cavalli con 240 Nm di coppia, parliamo appunto del mild hybrid, cambio automatico a 7 rapporti. Se parliamo di Renegade come modello, mi piace sempre citarlo perché è quasi un caso di studio, perché Renegade è stato lanciato nel 2014, sempre leader o tra i leader del proprio segmento, esteticamente piace molto, tant'è che è stata rinnovata minimamente all'esterno, mentre con il modelier 24 l'abbiamo rinnovata moltissimo per quanto riguarda gli interni, quindi abbiamo nuovo volante, nuovo sistema di infotainment da oltre 10 pollici lo schermo, nuovo Curscott anch'esso digitale con uno schermo da oltre 10 pollici, retrocamera di serie su tutta la gamma, Apple CarPlay e Android Auto che già esistevano, ma con il nuovo modellier di Renegade sono disponibili anche senza filo, quindi in modalità wireless. Quindi diciamo un modello vincente che piace esteticamente, ovviamente la tecnologia avanza e noi l'abbiamo rinnovato in termini tecnologici per rimanere al passo con i tempi. Hai detto una cosa giusta, è un caso di studio, perché solitamente un ciclo di vita è tra i 6-7 anni di un modello, questa Renegade ha quasi 10 anni di carriera e continua ad essere ai vertici del mercato, e quindi è questo, perché solitamente c'è una curva, piano piano si perdono un po' di clienti, invece Renegade continua a mantenersi tra i leader del mercato. Sì, diciamo che quello che ci dicono le ricerche è che piace moltissimo esteticamente e quindi molto spesso in tutto il mondo, ma forse ancora di più in Italia, che siamo così attenti alla moda e all'estetica, il fatto che piace esteticamente continua a decretare il successo di Renegade. Voglio farti una domanda sempre tornando al motore ibrido che equipaggia i due modelli, Compass e Renegade. Cambia qualcosa anche per la guida in off-road? Perché una jeep deve saper fare tutto e soprattutto deve andare in off-road. Allora, diciamo che ogni jeep, come hai detto bene te, deve sapere fare tutto. Per chi vuole l'off-road duro e puro, esistono le versioni 4xE plug-in hybrid, che sono 4x4, ma ricordiamo che tutte le jeep, anche nella versione mild hybrid, quindi 4x2, due ruote motrici, ha determinate caratteristiche architettoniche, diciamo, di costruzione, che fanno sì che vengano, che siano adatte anche per un utilizzo fuori porta nelle cosiddette strade bianche, anche grazie a determinati sistemi. Ne cito solo uno, cambiando modello, jeep Avenger, magari me l'avresti chiesto successivamente. È il prossimo argomento. Allora, ti anticipo, se è possibile, per fare un esempio. È ad oggi un 4x2 jeep Avenger, ma dispone di serie su tutta la gamma del sistema di trazione che noi chiamiamo select terrain, io posso preimpostare la trazione della mia vettura a seconda del tipo di strada o di meteo che sto andando a incontrare, quindi rendendola fruibile anche, diciamo, in un off-road accessibile. Ecco, infatti le immagini ci stanno facendo vedere che cosa è capace l'Avenger e vi assicuro, l'abbiamo fatto tutto con la versione a due ruote motrici, anche perché ci sono delle novità su Avenger che qualche minuto ve le raccontiamo. Raccontiamo un po' questa Avenger mild hybrid. Allora, anche qua il mild hybrid sicuramente ha portato una grossa novità su questo modello che ha allargato di colpo la possibilità di scelta per il cliente. Sì, perché l'abbiamo lanciata, come ricordavamo poco fa, con un 1200 cavalli benzina, che è stato fin da subito un successo tra il pubblico, ma l'abbiamo accoppiato successivamente, per quanto riguarda le motorizzazioni, diciamo tradizionali, con un 1200 cavalli mild hybrid, il cui funzionamento è del tutto similare a quello di Renegade Compass. Quindi un motorino elettrico in corrispondenza del cambio che consente migliori performance, migliore fluidità di guida, accoppiata ad un cambio automatico, in questo caso a sei rapporti, ridotte emissioni e io, guidatore, non devo fare nulla. La ricarica avviene in decelerazione e in frenata e l'utilizzo della vettura è del tutto tradizionale. Ecco, teniamo presente appunto anche questa cosa, che tutti questi motori mild hybrid sono sempre accoppiati a un cambio automatico, quindi quando andiamo a vedere anche il listino, teniamo presente anche di che cosa viene offerto di serie dalla vettura, perché il cambio automatico è sempre stato considerato un optional, invece adesso è diventato un equipaggiamento di serie. Esatto, esatto, sul mild hybrid offriamo di serie il cambio automatico, che è molto apprezzato, stiamo vedendo dai numeri. E soprattutto in città, perché questa trasforma la vettura anche adatta non solo per i viaggi, ma per la città. Poi chi ha voglia fa anche queste cose che siamo riusciti a fare anche noi giornalisti, quindi non sono per niente impossibili. Quindi vi assicuro, Avenger fa delle cose che sono insospettabili. Ma ci sono delle novità grosse su Avenger, perché a breve chi vuole affrontare strade bianche, chi vuole andare a fare un fuoristrada un po' più impegnativo, avrà una possibilità in più, perché Avenger diventa 4x4. E lo diventa con una soluzione tecnica, state attenti. Inedita, diciamo, inedita sul mercato. Noi Avenger 4x4, che disporrà di un motore da 136 cavalli, non più 100 cavalli, avrà in questo caso non un motore elettrico, ma due. Uno, dove la sorella minore, chiamiamo così, la 4x2, l'ha in corrispondenza del cambio, e il secondo motore elettrico in corrispondenza dell'asse posteriore. Quindi la trazione posteriore è demandata al motorino elettrico da 21 kilowatt, che viene situato sull'asse posteriore. Quello che mi piace ricordare, perché qualcuno potrebbe pensare che in assenza di carica di batteria, io non freno molto, non decelero, la batteria è scarica, quindi non posso avere il 4x4. Ebbene no, il 4x4 è sempre garantito, perché nel momento in cui la batteria dovesse essere scarica, io non me ne accorgo nemmeno, perché ciò avviene in tempo reale, il motore termico va in tempo reale, appunto, a ricaricare la batteria, la quale dà potenza al motore sugli assi posteriore. Quindi la nuova Jeep Avenger, che lanceremo verso fine anno 4xE, quindi 4x4, avrà un 4x4 sempre disponibile nel momento in cui la vettura dovesse averne necessità. Infatti avremo il test drive per la stampa previsto per il prossimo mese, sono molto curioso di provarla. Un'ultima battuta di chiusura, abbiamo parlato di elettrificazione di tutte le tecnologie a disposizione per Jeep, ma al vertice c'è Vagon Air, che è stata presentata in America ed è un po' il fiore all'occhiello della tecnologia elettrica. Assolutamente, il Vagon Air S è già presentato in America, è un'ammiraglia anche in termini dimensionali, è un'ammiraglia 100% elettrica, diciamo che per quanto riguarda il mercato europeo, non parliamo delle prossime settimane, neanche dei prossimi mesi, arriverà, è già stato dichiarato, non abbiamo ancora le tempistiche di arrivo, ma siamo tutti, non aspettiamo altro per testare anche voi giornalisti questa vettura. E' l'antenna tecnologica il punto di arrivo della tecnologia di Jeep sul capo? Assolutamente, perché ha delle performance eccezionali, ci sono già dei video su YouTube in cui si possono vedere le performance incredibili di questa vettura, e anche una larghissima, lunghissima autonomia per renderla, diciamo, adatta a tutti gli utilizzi. Bene, ringrazio Gabriele Conti, direttore marketing di Jeep Italia, grazie di essere stato con noi, novità ne abbiamo da raccontarci ancora in trovare. Assolutamente, Paolo, spero che mi invitiate a presto per parlare appunto di Avenger 4 per E che lanceremo a breve. Benissimo, l'invito è già stato mandato, e qualche minuto di pausa per i nostri telespettatori, torniamo dopo la pubblicità. Grazie.